Sono Angelo Grisci, ho vissuto fino a 18 anni a San Felice a Cancello in provincia di Casetta, ho prima intrapreso la carriera militare per qualche anno, circa 3 anni, ho frequentato l'Elis, dal 99 al 2001 sono venuto in Simab dove tutt'oggi lavoro, la Simab è una società che si occupa di manutenzione degli impianti industriali presso stabilimenti terzi ed è operativa su 8 clienti facente capo al gruppo Finmeccanica. Inizialmente sono stato inquadrato nell'ufficio ingegneria, attualmente invece mi occupo dell'IT, ne sono diventato il responsabile funzionario. L'ufficio IT si occupa di tutto ciò che è relativo ai sistemi informativi, gestiamo attualmente 18 server, tutti virtualizzati con un progetto che è finito circa un anno e mezzo fa. Prima ero semplicemente appassionato di attività informatiche ma mi occupavo di ingegneria della manutenzione. Ho poi avuto modo di fare dei miei hobby, il mio lavoro e quindi ho dovuto spostare i miei hobby su altro, nuoto, mountain bike, dedico il mio tempo libero a un po' di attività fisica. A dicembre 2009 ho fatto il grande passo, ovvero mi sono sposato. Una delle cose che mi è rimasta dell'Elis è l'approccio al lavoro, cioè la semplicità e la dedizione con cui ci si dedica naturalmente alle attività da fare. Ragazzi dell'Elis consiglio di non mollare, portare avanti gli obiettivi quotidianamente e cercare di mantenersi costanti per arrivare poi al vostro obiettivo finale.